Alberto Bonifazi ci racconti un aneddoto su Aldino? Allora, sono 36 anni che lo conosco da vigile urbano, per noi era una compagnia, un continuo salutarci. Al mercatino, al nuovo mercatino, giù dove sta ora, qualche problema lo creava perché lui indubbiamente attraversava tantissime volte. Andava a prendere le sigarette e tutto quanto ai venditori ambulanti. Allora noi stavamo lì in mezzo alla strada, tranquillo, ad aspettare che potesse scorrere in modo migliore il traffico. E lui, che non posso passare? Perché? Perché? Che t'ho fatto io? Aldino? Dico Aldino, buono un attimo, facci passare. Dai, 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 su, ma io mi voglio bene. Poi quando ritornava dalla tabaccheria, noi con le mani larghe che tenevamo ferme le macchine, ci metteva sempre un cioccolatino sul palmo della mano. Altino, sì.